Con l'evento Tutti per uno, un libro per tutti, chiude la quinta rassegna delle letterature inclusive alla libreria Sogna Libri di Ostia. I volontari Linfo Amici hanno incantato i bambini con letture animate e gli abbracci di un eroe davvero particolare. Sono ben cinque anni che portiamo avanti insieme a Giancarlo Chirico di Fiabba Sofando questo progetto. Un'edizione davvero emozionante, densa di appuntamenti, molti laboratori in presenza e arricchita da ospiti illustri. Ricordo per esempio l'incontro sulla sensibilizzazione sull'autismo con Francesca Camuso che ha visto anche una bellissima tavola rotonda con i rappresentanti del municipio. E poi abbiamo avuto nomi importantissimi come Daniela Pareschi, le case editrici, Maria Paola Pesce. L'evento di oggi è un evento che non poteva mancare perché ci ha accompagnato per tutti questi anni e vede la presenza dei volontari Linfo Amici. I volontari supportano i malati dell'infoma di Hodgkin e di tutte le malattie oncoematologiche. Quindi oggi saranno qui con noi per leggere i bambini e ci sarà un ospite d'eccezione che è Super Axe. Quindi questa mascotta a forma di marshmallow che dispensa bracci non solo in corsia ma lo farà anche con i nostri bambini qui presenti. Questo per noi è diventato un appuntamento immancabile a cui teniamo proprio particolarmente essere presenti perché è un contatto col territorio, perché è un contatto con i bambini, con tante letture poi in un ambiente così bello, così accogliente. Le libraie di Sogna Libri sono nostre generose amiche e ogni anno organizzano una raccolta di libri e giocattoli e si chiama Il Libro Sospeso. Quindi ogni cliente, ogni bambino soprattutto, che viene a comprare in libreria, lascia un regalino con un pensiero, una detica per un bambino che sta in ospedale. L'obiettivo che ci prefiggiamo è 70 regalini per i 70 posti letto del Bambin Gesù. Quest'anno abbiamo superato ogni aspettativa, abbiamo raddoppiato l'obiettivo e abbiamo consegnato al Bambin Gesù, abbiamo consegnato a Pavia, al San Matteo. E domenica 9 giugno tutti al Pantheon di Roma per il compleanno dei Linfo Amici. Ogni anno festeggiamo il nostro compleanno al Pantheon, nella piazza del Pantheon ed è la festa più bella dell'anno. È una festa allegra con giocolieri, musicisti, bande, majorette e i volontari di Linfo Amici ed è un'occasione per abbracciarci, per fare festa e per celebrare la nascita di questa associazione e celebrare tutte le persone che sono intorno a noi, che ruotano intorno a noi e che vivono queste esperienze insieme a noi.